Chiunque conosca la celebre trilogia di Ernst Mariska sull'imperatrice Sissi, ricorderà senza dubbio la scena in cui la giovanissima Elisabetta, vestita di azzurro, riceve il mazzo di rose rosse dall'imperatore, mentre a suo fianco sua sorella Elena, che invece assiste sgomenta e impotente alla sua pubblica umiliazione. Ebbene sì, oggi parleremo della sorella maggiore dell'imperatrice Sissi, Nenè, una figura apparentemente dimenticata dalla storia e vista come la triste controfigura della sorella. Elen Caroline Theresia nacque a Monaco di Baviera il 4 aprile 1834, era la figlia di Massimiliano Giuseppe Duca in Baviera e della principessa Ludovica di Baviera. Trascorse l'infanzia al castello di Possenufen, residenza estiva della famiglia. Veniva chiamata Nenè e, al contrario dei familiari, era cattolica praticante, si recava spesso dai malati e si dava ad opere di carità. Crebbe diventando l'opposto della sua famosa sorella. Mentre Sissi amava cacciare e cavalcare, Nenè preferiva attività più tranquille come ricamare. Le cose cambiarono quando sua zia Sofia, la madre dell'imperatore Francesco Giuseppe d'Austria, iniziò a cercare una moglie per il figlio e, infine, scelse Nenè. Ludovica era felicissima all'idea che sua figlia maggiore sarebbe diventata imperatrice d'Austria. Elena, però, aveva ricevuto pochissima educazione formale e furono rapidamente assunti degli insegnanti per insegnare a Nenè le basi del francese e della danza. Sofia considerava la nipote un perfetto partito per il figlio, ma non amava il fatto che fosse spesso in ritardo. Le madri avevano pensato di fare incontrare i due giovani, che si erano visti soltanto una volta da bambini, a Bad Ischl. Per l'occasione, Ludovica portò con sé anche Elisabetta, Sissi, la sorella minore di Nenè. Le cose non andarono come previsto. Francesco Giuseppe, infatti, rimase colpito dalla giovanissima Elisabetta. Il ballo della vigilia del compleanno di Francesco Giuseppe doveva essere la serata di Elena. Il fidanzamento sarebbe stato ufficializzato con la consegna di un bouquet da parte dello sposo alla futura consorte. Francesco Giuseppe, però, diede i fiori Elisabetta e ballò con lei tutti i balli che erano stati invece previsti con Elena. Ella, se sentire spinta e tornata a casa, iniziò a chiudersi in sé stessa e a soffrire di depressione. Cominciò ad andare in chiesa ogni giorno e Ludovica iniziò a temere che ella volesse farsi suora. All'età di 22 anni Elena era considerata una zitella e le speranze di trovarle un marito si riducevano con il passare del tempo. Ludovica, però, si mise in azione per cercare un buon partito, prima che fosse troppo tardi. Puntò su Massimiliano Antonio, principe ereditario di Turnum Taxis. L'incontro tra i due giovani fu abilmente orchestrato in seguito ad una faticosa battuta di caccia a Possenufen, dopo la quale Nenè comparve come una visione a portare rinfreschi per i partecipanti. Ludovica aveva calcolato bene il tempismo. Massimiliano, infatti, rimase colpito da Nenè. Il 30 marzo 1858 il duca Max scrisse al padre del principe, posso solo assicurarti con tutto il cuore che questo matrimonio mi renderà molto felice, soprattutto perché Elena si unirà alla famiglia di un uomo che mi è amico, sincero e devoto. C'era un problema, lo sposo non era dello stesso rango. Il re Massimiliano II di Baviera, capo della casa di Witteschwa, era contrario a matrimoni impari tra membri della sua famiglia, cui spettava il trattamento di altezza reale con esponenti di famiglie non reali e pertanto rifiutò di dare il suo assenso alle nozze. Fu soltanto l'intervento dell'imperatrice Elisabetta che fece pressioni per sbloccare la situazione a far ottenere a Elena il consenso reale alle sue nozze. L'unica condizione fu che Nenè continuasse a usare il proprio trattamento di nascita, cioè quello di altezza reale, invece di quello che avrebbe acquisito con le nozze, cioè altezza serenissima. Oltre al rango, mantenne anche il titolo di duchessa in Baviera, cui si andava ad aggiungere al titolo acquisito per matrimonio. Il matrimonio fu celebrato il 24 agosto 1858, appena tre giorni dopo che Elisabetta aveva dato alla luce al principe ereditario Rodolfo. Molti dei parenti vennero a Possenhofen per celebrare il matrimonio, inclusa la sorellastra di Ludovica, Carolina Augusta, imperatrice vedova d'Austria. Le forti piogge di quel giorno non smorzarono l'atmosfera festosa. La loro luna di miele fu trascorsa a Biederstein e gli sposi andarono persino a visitare la famiglia imperiale a Bad Ischl. Il loro ingresso a Ratisbona fu meticolosamente pianificato e Elena venne accolta calorosamente. Ella teneva molto alla sua gente e iniziò a dedicare il suo tempo alla beneficenza. Presto rimase incinta del suo primo figlio, anche se la nascita di una femmina di nome Luisa, nata nel 1859, fu una delusione per la famiglia. Una seconda figlia, di nome Elisabetta, nacque nel 1860. Nonostante le differenze caratteriali, Elena accorse in soccorso alla sorella Elisabetta più di una volta, rimanendo al suo fianco durante i lunghi periodi di convalescenza a Corfu e a Medeira, dove ella apprese l'infelicità di Sissi. Parlavano tra loro esclusivamente in inglese, quasi fosse il loro codice segreto, e si scambiavano frequenti missive che purtroppo la famiglia Turnuntaxis fece distruggere immediatamente dopo la morte di Elena, a tutela della sua eredità. Nel 1862 Elena diede alla luce il tanto atteso figlio maschio, Massimiliano Maria, a cui ne seguì un altro nel 1867, chiamato Alberto. Anche se la coppia ebbe un matrimonio felice, fu però messa in ombra nel grave stato di salute di Massimiliano Antonio, che soffriva di una malattia renale cronica. Massimiliano morì nel 1867, a soli 36 anni. Elena si disperò per il dolore. Tutti a Ratisbona piangevano alla morte del loro principe, il quale si era dato insieme alla moglie a numerose opere di carità. La vedova assisteva ogni giorno a una messa celebrata davanti alla tomba del marito. Passò molto tempo prima che riuscisse a ritrovare la serenità. Nenè acquistò il castello di Tuzzing, sulle rive del lago Stanberg, per poter stare vicino alla famiglia. Con la morte del marito e del suocero, la famiglia Turnuntaxis era in balia degli eventi. Elena doveva quindi riuscire a gestire gli affari economici della famiglia, almeno fino alla maggior età dei figli. Il ruolo di capofamiglia venne meno con la maggior età di Massimiliano, che a 21 anni divenne il settimo principe di Turnuntaxis. A Massimiliano però venne diagnosticata la stessa patologia del padre e morì poco tempo dopo. Maria Valeria, la figlia di Sissi, così annotò nel suo diario personale il giorno dell'eseque del cugino. Arrivata la mamma, ci ha raccontato molto della povera zia. Pare spesso che sia come pazza. A malapena, ripresa da quest'ultimo lutto, fu quindi il turno della sua secondogenita Elisabetta, principessa di Braganza, a morire di parto, lasciando Elena emotivamente devastata. Assunse il governo il figlio Alberto, quando, due anni dopo, divenne maggiorenne. Nenè non si riprese mai dalla morte dei figli e si ricò a Parigi per visitare sua sorella Sofia Carlotta. Nel frattempo, la sua salute iniziò a peggiorare e le fu diagnosticato un cancro allo stomaco. Tempo dopo, Elena si ammalò gravemente per un'infiammazione alla gola che le impedì di nutrirsi. Le forze la abbandonarono e in più fu colta da febbre alta e da delirio. Elisabetta arrivò giusto in tempo per salutarla. Sissi, ridotta anche lei ad un'ombra dal recente suicidio del figlio Rodolfo, così ricorda la conversazione che ebbe con la sorella al suo arrivo. Old Sissi, we too had hard puffs in our lives, le disse Nenè. Al che Sissi rispose, yes, but we had hearts. Delirante, la principessa Turnuntaxis, nata, duchessa in Baviera, si spensa la presenza dei suoi cari il 16 maggio 1890. Aveva 56 anni.